Terra bagnata da azzurro mare, Andreano, in spirituale devozione a Sant'Andrea Apostolo, è l'ultima evoluzione di un antico casato. Esso era inizialmente costituito da tre case e un'antica chiesetta, della quale rimane solo qualche rudere. La prima delle tre case si chiamava Feronzo, nei pressi della vicinissima Marina. La seconda Cittini ed infine Andrano, fortificata intorno ai primi secoli dell'anno 1000, per proteggersi dalle scorribande di pirati e barbari invasori. Quattro imponenti cinte murarie, con altrettante porte, sono posizionate nei pressi del cuore abitativo di Andreano, suddivisa a metà da Via di Mezzo, oggi via Roma. Nel cuore del casato si snodano stradine piccole e accoglienti, illuminate di sera dalla fioca luce dei candelotti e brulicanti di vita nelle lunghe ore del giorno. Di pianta quadriangolare con base a scarpa, la prominente struttura si presenta ornata da un corniciore marcapiano, che corre lungo tutto il perimetro del castello e probabilmente con mera funzione estetica. Il castello presenta all'estremità quattro grandi torri, delle quali solo una di forma circolare, posta a Scirocco. Il torrione circolare può essere datato intorno al Quattrocento. Scarpato alla base, anch'esso è ornato da un cornicione marcapiano e in alto da archetti e beccatelli. Insieme al fossato costituiscono gli elementi più antichi dell'intero complesso architettonico. Le due torri frontali donano eleganza e sontuosità all'intera struttura. Quella meno prominente, ma anche più antica, è di impianto normanno svevo, con base a scarpa e cornicione marcapiano. L'altra si mostra col balcone principesco che domina la piazza e, a ricordarne il terreno potere, una corona di pietra in cima alla chiave di volta dell'arco della loggia, sulla quale padroneggia lo stemma della dinastia Caracciolo. Dall'arco d'ingresso si giunge nel grande atrio del castello, caratterizzato da un'acustica sonora di pregevole livello. La struttura si dipana su due livelli. Nel livello inferiore, un tempo abitato dagli inservienti e lavoratori, vi erano un forno, i magazzini per i viveri, la cappella votiva adiacente alla sagrestia, le scuderie, il posto di guardia per la guarnigione e la colombaia. Nel livello superiore, dimorava la nobile famiglia ed era composto dalla sala del trono con il freggiato matroneo, la loggia principesca, alcune stanze private, la grande sala comune per i banchetti e l'armeria. Il convento, sorto in onore della Santa Maria della Grazia, e poi passato sotto la cura dell'ordine dei padri dominicani nel 1561, è ubicato su via di mezzo. Il frontone, bellissimo e sobrio al tempo stesso, è adornato da due finti colonnati finemente decorati sui capitelli, che terminano con un parapetto a mezza altezza, sopra il quale si sviluppa un'altra sezione simile alla sottostante ma differenziata solamente da un rosone centrale. Esso è adornato in alto da una scultura in pietra simile ad una corona. L'interno è finemente decorato e impreziosito dalla mano creativa di straordinari pittori, ricco di importanti riferimenti religiosi e spirituali legati al culto di San Domenico e della Madonna del Rosario, ai quali sono dedicate due grandi tele. L'altare centrale è in stile barocco e, come altri preziosi angoli all'interno del convento, è finemente decorato. Uno straordinario affresco, collocato nella muraglia sul lato destro del sacro edificio, rappresenta il collegamento tra le geste eroiche del Saraceno della Torrella e il devoto culto alla Madonna delle Grazie. Esso raffigura l'immagine della Madonna col bambino, che impugna tre dardi nella mano destra e il libro del Vangelo nella sinistra e sovrasta una chiesa, forse la cattedrale di Otranto, da cui i finestroni fuoriescono spaventose fiamme e il cui portone appare sbarrato. Qui i turchi vengono raffigurati sventolando insegne contrassegnate dalla mezzaluna, mentre brandiscono armi e picconi in movimento d'assalto alla grande chiesa, mentre davanti al portale giace un eroe ucciso dalle milizie turchia. Con la morte di Giovanni Antonio Saraceno della Torrella, i cittadini di Andrano, per paura di essere assediati dai turchi, fanno appello alla Santissima Vergine per aver graziata la vita, erigendo in suo onore codesta chiesa. La chiesa madre, poi dedicata a Sant'Andrea Apostolo, è una ricostruzione di un antico edificio, sorto probabilmente nel 1489. Essa fu utilizzata un tempo come antico luogo di sepoltura di sacerdoti e dotti clericali, dei quali ancora oggi si conserva memoria. Il campanile attuale risale presumibilmente al 1872. Esso fu ricostruito dopo il suo crollo avvenuto la notte del 16 ottobre 1819, su una casa adiacente di una famiglia modesta, la quale ne uscì in colume. Da quel momento venne proclamata festa grande in onore della Madonna. L'interno, sobrio ed elegante, appianta croce latina. L'altare maggiore, di origine ottocentesca, è realizzato in locale pietraleccese ed è adornato con numerosi candelieri. La chiesa è impreziosita da bellissime statue di santi e madonne, numerose altre statue e tele di natura religiosa la rendono un gioiello da scrutare in ogni suo particolare. Nel bellissimo e suggestivo promontorio della Marina di Andrano è presente una suggestiva cripta, marianizzata dai basiliani in onore della Madonna dell'Attarico, sintesi di bellezza, alchimia, semplicità e profondità spirituale. Un piccolo altare di pietra, illuminato dalla tenue luce di lumini, è posto alla base di un antico dipinto risalente al 1767. La cripta fu in passato un luogo di riposo e di lavoro per i monaci bizantini, abitanti dell'antica abbazia del mito, nonché luogo per la conciatura del pellame. Il luogo fu anche utilizzato da molti eremiti presenti in loco, i quali usufruivano di codesto provvidenziale rifugio per scappare dalla persecuzione durante il periodo delle lotte iconoclaste susseguitesi dall'VIII al X secolo. Castiglione d'Otranto, divenuto frazione del comune di Andrano nel 1859, è un piccolo centro abitato dalle remote origini, situato nel Capo di Leuca. Si pensa che fosse sorto su un antico luogo dove un tempo rappresenta una rocca, andata poi distrutta dai barbari nel X secolo. È un paese che ebbe in origine lingua, sacerdoti e rito greco fino al secolo XV e piena autonomia comunale fino al 1859. Molto probabilmente fu un'antica fortezza il cui nome significava proprio castello. Inizialmente il palazzo si sviluppava su un unico piano. Fu l'antico proprietario Filippo Bacile a soprelevarlo di un ulteriore piano, sulla cui facciata frontale ancora oggi è possibile ammirare otto eleganti arcate. Ha un imponente portale settecentesco, con lo stemma della famiglia e da caratteri distintivi propri del tardo barocco napoletano. È costituito all'interno da stanze ampie un tempo sontuosamente arredate, in cui era allestito un museo privato con dipinti d'autore, materiali archeologici ed esemplari di fauna marina. La chiesa madre di Castiglione d'Otranto risale al XVII secolo, anche se non si conosce esattamente la data di costruzione né quella della sua consagrazione. La matrice chiesa fu costruita e dedicata a San Michele Arcangelo, principe degli angeli e uno dei santi più venerati nel Salento bizantino. Il frontone della chiesa è molto rigoroso, seppur in armonia con il contesto dove è immersa. La chiesa è ad unica navata centrale, in sobrio stile barocco. Una volta all'interno si può subito ammirare il pregevole pavimento musivo a rombi bianchi e rosa. Esso fu realizzato nel 1871 e si sviluppa dall'entrata fino alla sagrestia. L'altare principale è in pietra leccese, arricchito da pregiate decorazioni e da un croce fisso. La chiesa custodisce statue, tele e ovali di pregevole fattura che la rendono un gioiello assolutamente da visitare. Il piccolo tempio in onore della Santa Maria Maddalena, costruito ipoteticamente intorno al 1400, sorge alla periferia di Castiglione, in un'ampia zona denominata Trice, sull'incrocio viario che collegava Castiglione d'Otranto a Depressa, piccola frazione di Tricase, e a Montesano. L'interno è ad Aula Unica, dove sono presenti un piccolo altarino contrapposto all'altrettanto minuta porta d'ingresso. Due rappresentazioni pittoliche ritraggono la Santa Maria Maddalena in procinto di approdare su una spiaggia, molto probabilmente Marie de la Mer, allo scopo di evangelizzare il mondo. Un tempo, nei pressi della cappella, si svolgeva la Fiera degli Animali, molto seguita e conosciuta dalle popolazioni locali. Essa fu istituita da Carlo di Borbone il 22 luglio del 1752, come evidenziato da un epigrafe sopra l'architrave della porta d'ingresso della chiesa. A circa 50 metri dalla chiesa Santa Maria Maddalena è situata la piccola e suggestiva cripta basiliana dedicata allo Spirito Santo, realizzata dai monaci basiliani e scavata in un unico banco di roccia calcaremitica. Entrando nella grotta, costituita da un unico ambiente a forma quadrangolare, si nota un pilastro centrale con funzione di sorreggerne l'intera struttura. È presente un altare ricavato da un unico blocco e posto sulla parete destra rispetto all'ingresso. Esso è sormontato dai resti di un affresco che probabilmente rappresentava il mistero della Trinità, il padre raffigurato con il triangolo sulla testa, il figlio seduto col croce fisso e lo Spirito Santo rappresentato sotto forma di una colomba. Da recenti studi si teorizza che la cripta, lungi dall'essere nata come luogo di culto italo-greco, fu inizialmente un tentativo andato a male di frantoio ipogeo, ripiegato successivamente al luogo religioso. La Marina di Andrano, un tempo detta anche Ferronzo, si estende per circa 3 km nella costa orientale della penisola salentina e rientra nel parco naturale Otranto Santa Maria di Leuca. La sua costa, prevalentemente scogliera, comprende la zona torre e la zona botte, collegate insieme dal sentiero delle Agavi, presenti lungo tutto il percorso. Nella zona torre sono oggi presenti due località di mare molto attrattive. La prima è chiamata Grotta Verde, per il colore smeraldo del mare. La seconda è nota come Fiume, per la presenza di sorgenti di acqua dolce. La zona botte comprende la località omonima botte, oltre al piccolo porticciolo situato tra le rocce per dare riparo alle piccole imbarcazioni da pesca e da diporto. Sempre nella località marina di Andrano è presente Torre Porto di Ripa, una torre di avvistamento risalente al XV secolo. Di essa, ormai ridotta a poco più di un rudere, resta la base di forma circolare troncoconica. Grazie a tutti.